Allora può anche tirarsi in sù, tant'altro ne può stare di fatto. Hai capito? Secondo me, perché quelli sono pericolosi per lui, vedi ci vuole proprio forza. Piero? Che li posso senza bastoncini io dai. No, no, stai fermo. Aspetta, piano, tira di qua. No, no, qua, qua. Qua? No, se l'hai vinto l'acqua. Qui? Sì, lanciala lontano, lancia in fondo. Ok, così ti bagni. Qua, qua, qua che li lancio io, dammi qua che li lancio. Sì, dai. Uno, un altro uguale, in fondo, in fondo, mandali in fondo, anche se danno più in fondo va bene. No, non ti ho, Umberto. Dai. Ma c'è Umberto preoccupato. Eh sì. Secondo me, se aveva i soldi, era meglio.